Questo libro di Donato Di Poce, Rinascimento, la danza delle idee, in perfetta sintonia con lo spirito rinascimentale, è al contempo un libro storico, didattico, didascalico, critico, enciclopedico e creativo, con un entusiasmante capitolo finale sul rinascimento nell'arte contemporanea. Il rinascimento è stato caratterizzato, dicevamo, da una vera e propria danza delle idee, arricchita e impreziosita dalla sperimentazione e dalla multidisciplinarietà degli artisti e poeti. Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Piero della Francesca, Machiavelli, Poliziano, Alberti, Ficino, Vasari, eccetera, eccetera, che erano politici, creativi, innovatori.